Via il rudere abbandonato, in arrivo appartamenti di pregio vista mare. Inizierà la prossima settimana la demolizione dell'ex CIF, edificio in degradante abbandono che da anni fornisce a Pesaro un fatiscente biglietto da visita per chi proviene da Fano nella sua collocazione all'intersezione fra via Colbe e la statale a poche decine di metri dall'alberghiero Santa Marta. Edificio degli anni 50, il CIF centro italiano femminile fu dapprima colonia estiva, poi casa di riposo, ed è stato poi al centro di svariati tentativi di recupero andati a vuoto, fino all'asta di fine 2022, dove è stato ceduto per poco più di 2 milioni a due imprese idili appaltatrici che ne realizzeranno una conversione in appartamenti ad uso residenziale turistico. Sono previste due settimane di intervento di demolizione per poi avviare la costruzione di una palazzina di 5 piani più uno interrato. 31 gli appartamenti previsti. Un blocco di operazioni di lizia insisterà sulla statale, un altro sul retro. Il risultato sarà un impatto immobiliare di pregio anche in ottica turistica a vista mare. Un'operazione di ricostruzione che avrà una durata di circa due anni con l'auspicio di completarla per l'estate 2026.